Andiamo a conoscere un'azienda che si trova in un bellissimo territorio, l'azienda è Lacanosa, ho il vero piacere di parlare con l'amministratrice Alberica Reina. Alberica, questa azienda dove è situata? L'azienda Lacanosa è situata nel sud delle Marche, nel Piceno. È un'azienda che nasce come progetto da mio padre Riccardo Reina, che nel 2004 ha voluto investire nell'azienda, che erano 100 ettari di grano, attualmente l'azienda sono 110 ettari, di cui 50 vinificati. Produciamo la passerina e il pecorigono offida di Ocg, così come il Rosso Piceno Doc, il Rosso Piceno Superiore, Montepulciano e San Giovese in purezza, oltre anche alla passerina spumantizzata, in brutte, in extra dry. Lacanosa è un'azienda sostenibile che punta anche sull'innovazione tecnologica. Ultimamente ha acquisito nuovi terreni sempre nelle Marche. Un'azienda si sta espandendo nel Castelli di Iesi. Abbiamo comprato 13 ettari di verdicchio, quest'anno siamo al Vin Italy con la prima annata di verdicchio classico e verdicchio superiore. Dobbiamo diventare una delle aziende più importanti nel territorio marchigiano. Il Vin Italy quest'anno è stato veramente esplosivo direi. Abbiamo molti appuntamenti di qualità, quindi qualità intendo dire distributori all'estero, quindi Stati Uniti, Giappone, UK, così come anche Germania. Mi pare di capire che sia molto importante per voi legare il prodotto vino veramente alla territorialità, che è un po' la forza del nostro paese, no? E questa vostra volontà mi sembra molto molto chiara. Assolutamente, infatti il nostro obiettivo è proprio quello di valorizzare il territorio del Piceno. Noi siamo in una zona montuosa, da 200, più o meno 10 metri sopra il livello del mare, fino a 540 i nostri vigneti. Quindi quella siccità che ci sarà nei prossimi anni, questo per noi sarà un grande vantaggio per i nostri vigneti.